Benvenuti nel mondo di Jean Richard Jean Richard è un marchio svizzero di orologi di lusso con una lunga e prestigiosa storia nella produzione di orologi di alta qualità. Fondata nel 1681 alla Show des Fonds, in Svizzera, l'azienda ha sempre avuto una forte attenzione alla precisione, all'eleganza e alla bellezza dei suoi orologi. La vasta gamma di orologi Jean Richard comprende sia modelli classici che moderni. I modelli classici sono ispirati al design degli orologi degli anni 50 e 60, mentre i modelli moderni sono caratterizzati da un design innovativo e originale. Inoltre, Jean Richard utilizza solo i migliori materiali nella produzione dei suoi orologi, come l'acciaio inossidabile e l'oro. Jean Richard offre anche una linea di orologi da polso per donne caratterizzati da un design elegante e raffinato. Questi orologi sono realizzati in oro o acciaio inossidabile, e sono dotati di movimenti svizzeri di alta qualità. Il marchio Jean Richard è presente in molti paesi in tutto il mondo, e i suoi orologi sono molto apprezzati dai collezionisti di orologi di lusso. La costante attenzione alla qualità e la capacità di coniugare la tradizione orologera svizzera con un design moderno e innovativo hanno reso Jean Richard uno dei marchi di orologi di lusso più ricercati al mondo. La collezione di orologi Jean Richard comprende modelli come l'Aeroscope, la Terrascope, l'Aquascope e la 1681. Ciascun modello ha caratteristiche uniche che li rendono adatti a una vasta gamma di stili e personalità. L'Aeroscope, ad esempio, è un orologio sportivo con una cassa in titanio leggero e resistente, che lo rende perfetto per gli sportivi. L'Aquascope è un orologio subacqueo, con una cassa in acciaio inox resistente all'acqua fino a 300 metri. La 1681, invece, è un orologio classico con un design vintage ispirato alla storia del marchio. Jean Richard è un marchio di orologi di lusso che rappresenta l'eccellenza nella tradizione orologera svizzera. La sua lunga e prestigiosa storia, la costante attenzione alla qualità e il design innovativo dei suoi orologi lo rendono uno dei marchi di orologi di lusso più apprezzati e ricercati al mondo.